attacca attacca va bene ok grazie giusto un incrocio è un incrocio così vai attacca ok così vai poi lo rallentiamo da noi la facciamo per questo per i fans e poi Roma è un posto unico più belle di così non si può fare grazie a voi a voi romani grazie ok andiamo un attimo